e bello a tutti ragazzi per me di questo nuovo video e oggi stiamo su siamo su a c'è praticamente è un gioco in cui siamo una formica si noi saremmo una formica aspettate noi saremmo una formica praticamente una figata azuta se lo metto questo sarà una figata praticamente noi siamo una vera formica per esempio un po' piccolo sono tutti piccoli e c'è la cosa da fumica una figata quindi sono qui per provarlo antesimulator ok facciamo così this version of the game fu made in 48 ore fu lunday il 29 ah ah la versione completa avrei rilasciato al 2015 la famiglia è un po' beggio sto gioco allora vabbè non fa niente ragazzi però noi però come una figata perchè a parte che è anche velocissima questa la formica ma io l'ho una figata perché comunque noi saremmo una siamo come una formica in questo gioco quindi quindi come se oh c'è un po' che fessimo cioè praticamente è come se che vivessimo in una formica ma è una mossa di merda è praticamente niente è questo oh c'è un'altra formica c'è un'altra formica c'è un'altra formica ehi ragazzi come sta bene sto registrando fatevi vedere amico dove va aspetta ciao saluta saluta tutti quanti c'è un po' che fessimo vabbè eeeh cos'è sta roba raga ho una caverna andiamo raga vabbè ah ma questo forse come oddio come un formicaio tipo io vabbè sono un formicaio ah sì un formicaio che cazzo è sta roba perchè c'è stavo pensando ma perchè come una formica gigantesca d'ora dai come c'è sta roba stavo scherzando come la sedici di sopra ok ragazzi stavo sopra la formica guarda ah vuoi non parkour vabbè la spelliamo un po' la zona guarda qui perchè non gli sono cose da fare tuttora credo qui no comunque ci sono anche più formiche che era dov'è fuori perchè si si bello eh vabbè anzi non è da tanto si eh vabbè poi dobbiamo provarsi la missione per che ho fatto io dobbiamo salire sopra non c'è unica norme ragazzi la possiamo fare ciao ragazzi come state devo salire sulla formica gigante io ci salgo perchè sono i gangster ma tutte le formiche sono i gangster ma tutte le formiche sono i gangster vabbè nessuno ci sale avete paura che è più coraggioso e vado vabbè lasciamo qui no ma come regge sta formica è fortissima raga la formica non è che la formica ve lo odio anche poter ok mi sa che hai sbagliato vero? ma siiii dovremmo aspetta dovremmo dobbiamo salire dobbiamo salire come facciamo salire ma vedete che sono le antenne no vabbè che sono le antenne no vabbè che sono le antenne ah sono le parti dietro vabbiamo in una parte del culo bisogna andare dalla parte della faccia che mi frede eh vedete tutti i figli che ci parla ma questa è data buon'idea ragazzi voglio che formica questa è la più forte che l'abbiamo visto no perché si è bruciato ma dai cavolo li ho i bug vedi qua ok no come sembra tutto vuoi dire che è bellissimo sembra più che sono la formica della formica eccoci siamo sopra ragazzi siamo sopra non si capisce niente formiche guardate io sono la più forte io sono la più forte tra le formiche nessuno mi mi supererà non è più forte all'altro non so la formica si stegna guardate una cosa quindi bisogna portarmi il rispetto percorriamo tutto ecco qui per far capire che sono la fatta di tutto dovete rispettarmi e datemi cantatemi tutte la macchina che vuole le Ferrari le Lamborghini scendiamo voglio fare un'altra cosa provo a superare il limite della mappa vediamo com'è sta passando una macchina ora andiamo ragazzi le pongo una macchina non fa niente scusate ragazzi ma c'è una macchina quindi non è questa ok dobbiamo andare avanti sempre avanti per vedere quello il limite della mappa no a vedere ragazzi non lo so quanto corre questa formica è molto potente ma c'è più l'ora è già finito è che possiamo ha già finito il limite è già finito il limite non è che posso salire il limite non è finito non è finito il limite siamo all'altra zona del posto adesso è una zona con zero foggi allora ci sono solo armani бог san loete hey ci sono altri ci sono questi tutti questi alberi su questo ma cal texture la c'è ecco ecco Penso che il limite della mappa l'abbiamo superato Vediamo, vediamo, vediamo Ma forse l'abbiamo superato Oh, stiamo andando sempre avanti Stiamo andando Ma non è che Sono fuori dalla mappa Oddio E la formica scende Facciamo la mappa Dove posso scendere adesso? Sto scendendo Vabbè raga, penso che Con la formica che sta scendendo nel vuoto Direi che col video possiamo concludere qua Vabbè, non solo 8 minuti perché non c'è niente da fare in questo gioco Direi che lo possiamo concludere qui col video Spero che vi sia piaciuto Mi raccomando Iscrivetevi e commentate La formica sta attuale che lo sto facendo Vabbè, sto tremando Sporciate Commentate e iscrivetevi Anche condividete se volete Noi c'è un prossimo video Ciao ragazzi